Buonasera dal TG6, questa sera apriamo con la cronaca il corpo di una donna di oltre 80 anni è stato recuperato questa mattina nel tratto di mare antistante lo stabilimento Croce del Sud a Pescara intorno alle 9 è stato visto fluttuare in acqua da alcune persone che hanno subito lanciato l'allarme portata arriva per la donna non c'è stato nulla da fare, i medici del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porta e la Polizia che si sono occupati degli accertamenti intervenuto anche il medico legale per l'ispezione cadaverica, la donna pescarese era vestita motivo per cui non si esclude tra l'altro l'ipotesi di un suicidio, non è stata riscontrata la presenza di segni di violenza Il direttore generale di Abruzzo Engineering, la società in house della regione Abruzzo assicura che gli stipendi saranno pagati e che entro la prossima settimana sarà sottoscritto il contratto di servizio questo in replica alle dichiarazioni del presidente della commissione di sorveglianza Mauro Febbo ci dice tutto Daniele Rosone è botta in risposta su Abruzzo Engineering tra il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo il direttore generale della regione Abruzzo Cristina Gerardis il consigliere regionale Febbo aveva denunciato la situazione di stallo degli stipendi dei lavoratori ad oggi ancora non erogati e ad un anno dall'acquisizione delle quote di Selex da parte della regione e a sette mesi dall'istituzione del direttorio il 31 agosto, lo ricordiamo, è prevista la scadenza per la liquidazione ma ad oggi persistono i problemi per gli stipendi parliamo di aprile, maggio 2016 e giugno mentre esiste un contenzioso con l'Inps per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2015, tredicesima compresa immediata la replica del direttore generale Gerardis che afferma che la prossima settimana è convocata un'assemblea in quella sede ci sarà il contratto da parte di tutti i soggetti interessati al rilancio di Abruzzo Engineering secondo la Gerardis si sono sbloccati gli stipendi per i 120 dipendenti a breve ne arriveranno altri inoltre è stato approvato lo schema di contratto di servizio che verrà approvato in questa settimana ed è pronto il disegno di legge sulla patrimonializzazione della società ad oggi l'importo delle risorse già in cassa della regione trasferite dalla struttura tecnica di missione è di 5,3 milioni di euro per le attività di Abruzzo Engineering legate alla ricostruzione post-sisma dell'Aquila in realtà, dice la Gerardis, la giunta regionale martedì 28 giugno approvato con delibera il modello di contratto di servizio tra la regione e la società in house inoltre sono state corrisposte, dice, le retribuzioni di aprile regolarizzati tutti gli adempimenti previdenziali di aprile e maggio con riguardo, scrive ancora le restanti retribuzioni di maggio e giugno la sottoscrizione del contratto consentirà nella prossima settimana di corrispondere integralmente antenendo conto che, dopo l'appreviazione del contratto di servizio è possibile l'emissione delle fatture alla regione che già dispone in cassa delle risorse finanziarie erogate per le attività della ricostruzione da ultimo, dice ancora la Gerardis non posso che esprimere soddisfazione per l'evidente corrispondenza di intenti del consigliere Febbo con le iniziative della maggioranza in ordine alla patrimonializzazione della società il disegno di legge è già stato predisposto sottoscritto e depositato in consiglio ora è compito di quest'ultimo trasformarlo quanto prima in legge nessuna inerzia dunque da parte del governo regionale che anzi, conclude, sta rispettando il cronoprogramma che si è dato con puntualità e attenzione pur nell'estrema complessità anche sotto il profilo giuridico della situazione Restiamo all'Aquila e parliamo di posti di lavoro l'H3G Revoca, l'unica commessa del call center e a rischio ci sono molti lavoratori assunti nel post terremoto si mobilita il web per dare solidarietà a tutti gli operatori il 18 luglio scadono anche le farie forzate vediamo Save Call Center Accu è la nuova campagna lanciata all'Aquila sui social i lavoratori, ma non solo, ci mettono la faccia e arrivano su Facebook tante foto da tutto il mondo per esprimere solidarietà ai lavoratori in poche ore moltissimi like e tantissime foto postate l'obiettivo è dare sostegno ai 234 lavoratori aquilani dei call center Globe Network che rischiano il posto di lavoro un'avvertenza difficile è quella del call center aquilano a cui la società di telefonia mobile H3G ha disdetto l'unica commessa a causa del debito orariale di 4,5 milioni di euro contratto dal fornitore dal 30 giugno i lavoratori sono in ferie forzate e questo sino al 18 luglio il loro destino passa per due aspetti il 13 luglio il Tribunale di Milano dovrà pronunciarsi sul ricorso contro H3G presentato dall'amministratore di Globe Network che vuole evitare che all'azienda sia tolta la commessa d'altra parte la H3G non vuole fare passi indietro e sta cercando invece un nuovo gestore con l'impegno però a mantenere l'attuale personale i 234 lavoratori sono stati assunti lo ricordiamo dopo il terremoto del 2009 a tenere i fili della vicenda a livello politico sia la senatrice del PD Stefania Pezzopane che il vicepresidente della regione Giovanni Lolli anche il comune dell'Aquila è stato investito del problema dopo che i lavoratori hanno presidiato l'ultimo consiglio comunale ottenendo un incontro con i capogruppo consigliari che dovrebbe tenersi a brevissimo giro ora la pagina sindacale la Fais Cisl, la Flai CGL e la Fil B Will regionali hanno proclamato per la giornata di domani 5 luglio uno sciopero di 8 ore con presidio di circa 100 dipendenti dei consorsi di bonifica davanti alla sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara dalle 10 alle 12.30 le motivazioni della protesta sono contenute in una lettera inviata nei giorni scorsi al presidente della regione Luciano D'Alfonso dopo 18 mesi di negoziati infruttuosi afferma il segretario regionale Fais Cisl Maurizio si è bruscamente interrotto il tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale stopo che ha costretto le organizzazioni sindacali a proclamare un pacchetto di sciopi prima a livello interregionale e successivamente nel caso perdurasse l'atteggiamento di totale chiusura dello snebi a livello nazionale a Pescara la giunta Alessandrini ha presentato questa mattina al Palazzo di Città il bando per il recupero delle periferie cittadine Paolo Rensetti Sindaco Alessandrini partirà a breve questo importante progetto di recupero delle periferie dei quartieri periferici della città di Pescara come mai questa idea e com'è nata e come si svolgerà questa idea nasce dal fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto con un decreto di fine maggio 500 milioni per le periferie italiane per la loro riqualificazione e la loro sicurezza questo significa attenzione alle infrastrutture immateriali una strada per intenderci ma anche alle infrastrutture materiali che significa se tu riqualifichi un immobile del patrimonio pubblico è opportuno che poi lì si svolgano funzioni e servizi che siano utili e percepiti per la cittadinanza periferie però devono essere riguardate non solo come luoghi in cui frenare fenomeni di degrado e marginalizzazione ma anche con il clima globale di terrore in cui viviamo a questi tempi devono essere viste con attenzione Nel concreto dove e come andrete ad intervenire? Noi vogliamo diciamo partecipare a un bando e vogliamo vincerlo per farlo c'è bisogno di individuare una serie di aree degradate cosa che facciamo noi sappiamo quali sono le periferie di Pescara con l'idea di organizzare una sistema di interventi che siano in qualche modo coerenti fra loro o la metafora potrebbe essere quella della matrioska o della cipolla a seconda che vi piaccia la Russia o altro e cioè una serie di interventi che sono legati fra loro che sono in grado di estendersi proprio perché noi possiamo ambire a prendere fino a 18 milioni sono contributi pubblici o contributi governativi ed è opportuno naturalmente presentare un progetto di più alta qualità possibile per essere competitivi restiamo a pescare e parliamo di stagione balneare le presenze sotto gli ombrelloni sono ai minimi storici a Pescara indispensabile intervenire subito perché le disdette e le mancate prenotazioni per la stagione 2016 fioccano è il grido di allarme lanciato dal responsabile nazionale di CNA balneatori Cristiano Tomei sotto accusa l'effetto domino prodotto sui mercati turistici interni e internazionali dalle notizie sullo stato di salute delle acque di balneazione cittadine sottoposte a un'eterna altalena di divieti e notizie rassicuranti a metà aprile ricorda Tomei proponemmo al presidente D'Alfonso di istituire un'autorità per la lotta all'inquinamento un potente strumento in grado di comunicare un attivismo esercitato su più fronti dalla repressione degli scarichi abusivi nei nostri fiumi alla messa in efficienza dei depuratori mettendo insieme tutti i soggetti interessati alla salvezza delle nostre acque di balneazione di tutto ciò però non si è colta l'urgenza contenuta in quel nostro messaggio è ancora possibile fare qualcosa chiude Tomei chiediamo alla regione di convocare immediatamente le organizzazioni datoriali del turismo e predisporre un piano di interventi che coinvolga l'amministrazione comunale di Pescara secondo la classifica del Censis proprio male vanno le università abruzzesi di L'Aquila Chieti e Pescara l'unica a salvarsi è quella di Teramo vediamo una classifica del Censis analizza le università abruzzesi e secondo i dati relativi all'anno accademico in corso 2015-2016 gli Atenei dell'Aquila di Chieti e Pescara sprofondano sotto la classifica dopo le università più grandi va meglio invece all'università di Teramo che si piazza in quarta posizione nella classifica dei piccoli Atenei mentre per quanto riguarda la ricerca male per tutte le università abruzzesi l'Ateneo dell'Aquila e Chieti e Pescara sono inserite nel Censis nella graduatoria delle grandi università quelle riferite ad Atenei che contano tra i 20.000 e i 40.000 iscritti sul podio Perugia Pavia e l'università della Calabria l'Ateneo dell'Aquila in questa classifica si colloca terzultimo con 76,6 punti mentre Chieti e Pescara penultima peggio di loro sono l'università di Napoli l'analisi si riferisce anche a strutture e servizi e analizzando i dati il punteggio più basso per l'Aquila è relativo alle strutture e servizi chiaramente l'Ateneo Aquilano conta ancora i danni relativi al terremoto che ovviamente hanno portato ad una ricollocazione dunque la parte logistica è senz'altro segnata e penalizzata da questa vicenda anche se c'è da dire che l'Ateneo pian piano sta recuperando le sedie originarie per quanto riguarda invece l'internazionalizzazione meglio l'Aquila rispetto all'annunzio anche se la distanza con altre università italiane è molto profonda ancora risultati più positivi invece arrivano per l'Ateneo di Teramo che si piazza al quarto posto nella classifica dei piccoli Atenei quelli cioè che non superano i 10.000 iscritti il Censis nella sua analisi ha dato un posto speciale poi alla ricerca scientifica su 50 università nell'area di ricerca delle scienze matematiche e informatiche l'Aquila è tredicesima Chieti Pescara penultima nell'area delle scienze fisiche su 41 università l'Aquila è trentaquattresima nelle scienze chimiche trentaduesima terzultima nelle scienze biologiche e anche per la ricerca e scienze mediche male anche Chieti Pescara in questo campo interessante il dato nel cantiere più grande d'Europa nella ricerca nell'ambito dell'ingegneria civile dell'architettura l'Aquila è al 17esimo posto su 41 facoltà per le materie umanistiche al 39esimo posto le università nel loro complesso sono state giudicate in base a 5 parametri i servizi come per esempio le mense i pasti il numero di posti letto per gli iscritti da fuori regione le borse e contributi ovvero la spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti le strutture con punteggia segnate in base ai posti disponibili nelle aule nelle biblioteche e nei laboratori infine il web con punteggia i siti internet degli atenei in base a 86 indicatori dalla funzionalità ai servizi online per esempio l'iscrizione e pagamento tasse passando per l'accessibilità e la presenza di informazioni in lingua straniera e poi l'internazionalizzazione ovvero il numero degli iscritti stranieri gli studenti che hanno trascorso un periodo all'estero per studio telecino spesa a favore della mobilità internazionale Nelle due giorni della città Valfino tenutasi venerdì e sabato scorsi il vicepresidente della regione Giovanni Lolli ha annunciato che il territorio del Fino sarà area di crisi destinata dunque a specifiche agevolazioni da parte del ministero dello sviluppo economico ci dice tutto Andrea Costantini Si è chiusa sabato scorso la due giorni della vetrina della città Valfino che si è tenuta nel centro storico di Castiglione Messerraimondo una manifestazione condita da stand e da esibizioni delle principali associazioni e realtà produttive della vallata ma che soprattutto è stato un momento di confronto e dibattito sulle potenzialità di un territorio che deve puntare ad una visione unitaria dei sei comuni di Castiglione Arsita Bisenti Montefino Elice e Castilenti venerdì si è parlato della comunanza di interessi nella vallata e della cooperazione fra Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga la riserva dei Calanchi di Atri e l'area marina protetta del Cerrano tre organismi sul fronte ambientale che sono vicini o insistono su questo territorio Sabato la discussione si è concentrata sulle concrete opportunità fornite dall'integrazione dei comuni tra gli interventi quello del Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli e quello del Consigliere regionale e facilitatore delle aree interne Luciano Monticelli proprio dall'intervento del Vice Presidente Lolli è arrivata la notizia più importante il prossimo riconoscimento della Valfino insieme alla diacente area vestina come area di crisi destinataria di specifiche agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico l'anticipazione dunque di un provvedimento che a breve sarà ufficializzato il riconoscimento come area di crisi è un'ulteriore buona notizia per questo territorio che si aggiunge al piano straordinario di manutenzione della viabilità dell'importo di 8,5 milioni di euro approvato nel Masterplan ha dichiarato a proposito il Consigliere regionale Monticelli la città Valfino ne ha un gran bisogno viste le chiusure che hanno colpito il suo comparto produttivo negli ultimi anni ora bisognerà lavorare perché le risorse vengano messe presto e bene a disposizione di progetti lungimiranti questo dimostra ancora una volta che come hanno detto tutti gli intervenuti al dipattito e in particolare i docenti universitari per raggiungere questi traguardi è necessario che i comuni sappiano fare squadra la costruzione della città Valfino deve proseguire con decisione e coraggio una domenica senza acqua ieri per i cittadini di Ripateatina allora il sindaco Ignazio Rucci si rivolge all'Aga vediamo sindaco quella di ieri è stata una giornata difficile a Ripateatina sul fronte dell'acqua siete rimasti per parecchie ore senza poter erogare acqua dai rubinetti cosa è accaduto? devo precisare che per quanto riguarda l'avaria dell'impianto del serbatoio pensile è dovuta esattamente alla superficialità della società Aga in quanto noi abbiamo un serbatoio quel serbatoio serve tutta la parte alta del paese di Ripateatina alcune volte questo serbatoio si svuota e la segnalazione avviene in ritardo agli addetti dell'Aga il problema si può risolvere l'ho segnalato per iscritto al 2013 l'ho risollecitato installando un impianto di telecontrollo in modo tale che la segnalazione arriva immediatamente agli operai dell'Aga e possono tranquillamente intervenire senza far mancare l'acqua al paese proprio ieri è accaduto un'altra volta che il serbatoio si è svuotato ed io ho sollecitato il presidente dell'Aga in quanto mi ha comunicato che l'Aga ha provveduto a fare la gara d'appalto per impiantare non solo su Ripateatina ma anche su altri impianti sul territorio un telecontrollo mi regolò come ho detto precedentemente agli uffici dell'Aga per constatare se effettivamente la gara di appanto si è fatta e si aprono le buste per realizzare questo impianto mi auguro che possa ricevere questa notizia ma non notizia così testimonata con carte alla mano in modo tale che i cittadini possano stare tranquilli noi vigileremo ancora su questa situazione qua perché non è una situazione piacevole per nessuno qualcuno ha detto che in altre zone c'è l'acqua purtroppo in altre zone se c'è l'acqua l'impianto proprio idrico è diviso qua a Ripateatina da una parte ce lo dà la fara e dall'altra viene da un'altra conduttura una spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe che grazie all'aiuto e all'intervento dell'amministrazione comunale di Silvi potrà avvalersi della presenza dei volontari dell'associazione unica bice ieri si è svolta l'inaugurazione con la presenza dei cani della scuola italiana di salvamento che hanno simulato tutte le tecniche di soccorso in mare il servizio dal momento che questa spiaggia era stata identificata ma solo con il libero accesso senza nessun controllo ho chiesto l'autorizzazione adesso arrivando da Giulianova prevalentemente saranno garantiti weekend è possibile che anche durante la settimana riesca a essere presente grazie anche ai volontari della mia associazione garantiremo dal punto di vista igienico-sanitario il rispetto di un regolamento spesso i proprietari portano i cani liberi senza rendersi conto che potrebbero tra di loro non andare d'accordo quindi la nostra presenza è intesa a voler dare una maggior sicurezza alla spiaggia e anche a dare un'educazione a sensibilizzare le persone a poter gestire bene il rapporto tra il cane e l'uomo il proprietario e anche tra cani tra cani noi oggi siamo qui siamo stati chiamati dall'organizzatrice per questa apertura di questa spiaggia che si chiama Unica Beach per fare una dimostrazione sia di ubbidienza a terra e sia di esercitazione in acqua simuleremo qualche situazione che potrà avvenire durante il periodo estivo perché noi lavoriamo principalmente sulle spiagge libere siamo tutti volontari di protezione civile quindi vedrete delle situazioni che possono avvenire siamo presenti anche per poter aiutare chi per la prima volta porta il cane prima infatti ho avuto una signora che si è fermata a parlare per chiedere se il proprio cane poteva venire al mare gli piacerebbe portarlo è un pastore abruzzese di un paio d'anni ed è la prima sarebbe la prima volta che viene al mare quindi mi ha chiesto di poterla seguire quando verrà apre la stagione degli eventi estivi anche il comune di Giulianovo ha tanti gli appuntamenti un occhio di riguardo per le manifestazioni culturali che riguarderanno i poli museali e non solo il servizio anche quest'anno nonostante le note difficoltà che attanagliano tutti i comuni tutte le amministrazioni la nostra la nostra cittadina Giulianova in particolare l'assessorato alla cultura ha voluto comunque garantire un programma ricco di di manifestazioni ricco di eventi e nel particolare noi ovviamente abbiamo tante strutture importanti tante strutture museali importanti quindi proprio il polo museale civico che garantirà l'apertura per tutta l'estate a partire già dai primi di luglio fino a fine agosto e questi interessano le strutture del Torrione della Rocca la Casa Braga e per l'apertura della Casa Braga ringraziamo ovviamente l'associazione omonima Gaetano Braga che da anni ci supporta nell'apertura ci sarà l'apertura della Cappella dei Bertolomei questo per garantire ai turisti e anche comunque alla cittadinanza una risorsa importante un interesse in più oltre alle vacanze estive intese proprio nel senso di relax però questo è importante per la nostra città per il mio assessorato abbiamo creduto molto in questa apertura dei musei oltre alle tradizionali aperture dei musei quest'anno in qualche modo garantite oltre alle visite guidate il Polo Museale Civico quest'anno ha anche ideato una programmazione di eventi chiaramente facendo fare uno sforzo anche a tutte le associazioni a tutte le persone che si occupano di ricerca scientifica di storia di arte e anche di musica in questo il Polo Museale Civico oltre ad impegnarsi per un rientro della Pinacoteca il più presto possibile vuole anche cominciare a far rifrequentare dai cittadini giuliesi questo importante luogo e lo facciamo con questi incontri che si chiamano Giovedin Terrazza incontri di arte storia e musica a Palazzo Bindi ed è stata possibile grazie alla collaborazione anche qui di associazioni culturali del territorio in primis Italia Nostra alla sezione di Giulia Nova e poi anche con la partecipazione importantissima dell'associazione Gaetano Braga e dell'associazione Accademia Acquaviva che garantiranno due momenti musicali di alto livello proprio sulla terrazza quindi avremo incontri con generazioni di studiosi proprio per dimostrare e testimoniare che Giulia Nova è molto ricca di studi ora parliamo di un altro evento e torniamo a Pescara dal 12 al 14 luglio lo stabilimento balneare Penelope Ammali ospiterà la prima edizione del Kart & Beach Summer event organizzato dall'ex pilota di Formula 1 Vita Antonio Liuzzi tanti personaggi famosi dello sport che saranno presenti vediamo Kart & Beach Summer event la prima edizione un evento particolare tra l'altro con nomi prestigiosi sarà un giorno molto intenso dove tanti colleghi amici verranno qui tra sportivi e personaggi televisivi a fare due eventi in giornata di cui la mattinata avremo una gara di kart nel Penny Kart che si costruirà questa settimana a Porto Allegro nel parcheggio di Porto Allegro cioè una pista di kart dove avverrà una competizione in tarda mattinata poi nel pomeriggio ci sposteremo qui allo stabilimento Penelope Ammare qui da noi per avere una competizione di beach volley per poi concludere la sera con una cena di gala e una festicciola tra amici in cui uno dei miei colleghi Giancarlo Fisichella appunto sarà l'host di beneficenza come a livello di DJ ci sarà Massimo Oddo Jarno Trulli e tanti altri poi avremo Marco Simone Jure Cosir Rungaldier Ghedina Marco Melandri tanti colleghi sotto ogni aspetto ci sarà Patrick Ray a livello televisivo dovrebbe arrivare una delle veline quindi un po' di cose miste diciamo un po' di atleti personaggi del mondo dello spettacolo noi facciamo 4-5 eventi all'anno siamo nati nel 94 abbiamo quasi 80 ore di mondo visione più di 600 ore di ferita quasi 4.000 giornalisti con 230 atleti e l'associazione che abbiamo creato io e il principe Alberto e il principato di Monaco per l'aiuto dei bambini in tutto il mondo che hanno molto meno di noi e attraverso eventi che facciamo sportivi sia calcio sport diversi sci golf e motosport abbiamo dei progetti in tutto il mondo che realizziamo in questa associazione abbiamo anche Tonio da molti anni che prima di essere un membro è anche un amico che ci ha invitati qui non siamo mai venuti in Abruzzo ci piace moltissimo per fare questo evento spero che sia una delle prime volte per poi continuare magari tutti gli anni a fare un evento qui in Abruzzo ora apriamo la pagina dello sport e l'apriamo con una news di calciomercato sul Pescara Arlina Jadi non giocherà nel Pescara Calcio il presidente Sebastiani ha atteso fin da ieri la risposta del difensore albanese che non è arrivata e si insiste per Stendardo nei prossimi giorni nuovo tentativo per l'attaccante argentino Suarez parliamo ancora di Pescara Calcio e parliamo anche dell'atteso ritiro Palena si prepara ad accogliere il Pescara di Massimo Oddo nel piccolo centro in provincia di Chieti è tutto pronto per il ritiro dei bianco-azzurri che partirà il prossimo 14 luglio vediamo Palena ospiterà il ritiro del Pescara dal 14 luglio al 2 di agosto Sindaco per il vostro centro una grande soddisfazione una cartolina incredibile sicuramente sì è un'occasione irripetibile una squadra di serie A in un piccolo paese di 1400 abitanti l'orgoglio di essere qui come primo cittadino mi riempie di gioia ma mi riempie di gioia soprattutto il Pescara in serie A e la grande professionalità del patron Sebastiani che insieme a tutto il suo team a tutta la sua squadra a Gianni Lacchiette alla società dei servizi a Bisteroddo e a tutti gli altri componenti della società del calcio ha permesso che il Pescara venisse a Palena è venuto a Palena perché fortunatamente è stato da noi quattro giorni l'anno scorso ci siamo comportati bene li abbiamo saputi accogliere e questo paga metterete a disposizione della società Bianca Azzurra delle attrezzature degli impianti all'avanguardia campi in erba naturale e palestre ci sarà anche un piccolo laghetto e poi alberghi all'altezza sicuramente sì noi abbiamo la fortuna di avere una grande capacità ricettiva abbiamo un campo in erba dal 2008 curato in una maniera maniacale dalla polisportiva Palena ringrazio tutti quanti gli elementi che ne fanno parte e che ne hanno fatto parte ma soprattutto come le dicevo poco fa abbiamo questa capacità ricettiva che ci permette insieme al campo in questo modo di poter ricevere ed ospitare una squadra di così tale livello ora ci occupiamo di Teramo Calcio nessuno è più determinato di noi questo è il claim della campagna abbonamenti del Teramo presentata oggi 500 euro per le poltronissime 265 per la tribuna 190 per i distinti e 120 per la curva questi i prezzi interi per la prossima stagione intanto sul fronte del mercato si allontana l'attaccante Marco Sanzovini ed ascoltiamo adesso il presidente Luciano Campitelli Presidente la presentazione di una campagna abbonamenti coincide sempre con l'inizio di una nuova stagione dopo un campionato un po' complicato per certi versi come riparte il Teramo? Riparte nel modo giusto ma credo che si vede si vede in noi come società e si vede in giro vedo un ambiente molto carico un ambiente molto voglioso un ambiente che ha di nuovo bisogno di una nuova energia e anche noi è la stessa cosa l'anno scorso il record sotto la sua gestione italiani venduti 611 quest'anno quale obiettivo si pone? se ne facciamo 612 credo che Teramo dovrebbe essere orgogliosa come città dei propri sostenitori dei propri tifosi non tanto per quanto riguarda noi che andremmo sicuramente ad avere un ingasso di milioni di euro assolutamente no ma giusto perché anche quella è la spinta è la voglia per poter far sì che anche quest'anno raggiungeremo un cospicuo numero di tifosi che la domenica sta lì a tifarci il nome più caldo del mercato è ovviamente Marco Sansovini c'è già stato un incontro come è andato? Marco Sansovini è uno di quei uomini insieme ad altri che potrebbero fare per noi però ancora non si decide perché è una decisione molto molto importante e quindi dobbiamo ancora capire vedere in questi giorni vedremo e capiremo meglio quali saranno le due figure spero in questa settimana la prima e la prossima la seconda figura che possano fare il nostro caso a proposito di Bomber l'ultima vedere la Padula prodare al Milan e Pescara percepire circa 10 milioni di euro fa male ma ci fa piacere per la Padula perché come come ben avete visto la Padula è rimasto legato tanto a noi il giorno che ha firmato per il Milan il primo messaggio l'ho avuto io quindi sicuramente non ci fa male è stato ceduto al suo valore e credo sicuramente che ha meritato questo suo diciamo premio andare al Milan chiudiamo con una news di calciomercato proprio del Teramo si era parlato proprio di Sansovini nel corso dell'intervista al presidente Campitelli pare si riaprano gli spiragli nella trattativa per l'attaccante dopo un secondo incontro avvenuto proprio oggi la trattativa prosegue il Teramo spera di convincere il sindaco a indossare la casacca bianco-rossa e allora con lo sport si conclude questa edizione del TG6 il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'appuntamento delle 23 grazie per essere stati con noi